Gesù annunzia molte volte la paternità di Dio nei riguardi degli uomini riallacciandosi alle numerose espressioni contenute nell'Antico Testamento. Per Gesù Dio non è solamente il Padre di Israele, il Padre degli uomini, ma il Padre suo, il Padre mio. Gesù Dio Padre nostro quotidiano, da nobis odie, che dimittano bis la vita nostra. Si cudano nostri vittimus, dei vittoribus nostri, che trerossi in Ducat, in tentazione, sed liberano San Maru. 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 Grazie a tutti